Baruffi Cars, appoggi ridenti. Non solo Natura e Sport in Val Malenco. Nella settimana di ferragosto a Lanzada, è in arrivo l'evento candidato a diventare l'appuntamento fisso per eccellenza dell'estate vartelinese. Il 18-19 agosto scatta la prima edizione della Dreamland Music Festival, l'appuntamento dedicato alla musica elettronica lanciato da due giovani intraprendenti, Stefano Faldrini ed Alessandro Negrini, mossi dalla voglia di rivitalizzare il loro territorio. Abbiamo appunto deciso di organizzare questo evento a Lanzada per creare qualcosa di nuovo sia per i ragazzi della Val Malenco e sia per i turisti che salgono tutte le stati nel nostro territorio. Non essendoci molti eventi per un pubblico giovanile, abbiamo comunque deciso di rinnovare la programmazione estiva. Presso la località di Pradascio saliranno sul palco non solo ospiti importanti nel campo radiofonico, tra cui i DJ Spine dello Zodi 105, ma anche artisti di fama internazionale, come Dairo e il duo olandese Ole Rush, Charlie Ray e i giovani Bounce Makers, di cui fa parte anche Alessandro Negrini. Abbiamo deciso di puntare soprattutto su artisti grossi, perché secondo noi sono quelli che muovono le masse. Ovviamente per noi è stato, diciamo, un rischio, soprattutto, diciamo, economico, perché comunque non vengono a gratis. Un rischio che invece è stato ripagato ampiamente. Le pre-vendite hanno infatti raggiunto quota mille. Anche noi non ci saremmo aspettati un hype così alto del festival. Siamo veramente contenti e sicuramente ci dà la forza per andare avanti e credere nel progetto che abbiamo creato. Un'iniziativa che fin da subito ha trovato l'appoggio dell'amministrazione guidata da Marco Negrini. Grazie a questo festival di musica elettronica che dovrebbe apportare appassionati giovani da tutta Italia e non solo. Quindi davvero un'occasione che abbiamo pensato di cogliere al volo perché ci è piaciuta, ci è piaciuta la serietà degli organizzatori ed è una sfida anche per il comune perché comunque è un evento che raccoglierà centinaia e centinaia di persone nell'area di Pradash, quindi anche la gestione dell'ordine pubblico, della sicurezza e della pulizia in generale dell'evento è una sfida che ci piace sostenere e che speriamo ovviamente anche di vincere. E per non lasciare nulla al caso è previsto un servizio navetta che collegherà l'ansada con Tirano, Sondrio, Morbegno e Corico. Per tutte le informazioni consultate la pagina Facebook dedicata.